Il Consiglio regionale della Campania ha approvato a maggioranza la legge per l'istituzione della giornata regionale del figlio. A partire dal prossimo 15 maggio la ricorrenza sarà celebrata ogni anno su tutto il territorio, con l'obiettivo di favorire un pieno sviluppo del minore attraverso l'enfatizzazione del suo ruolo all'interno della famiglia. Tra i contenuti del testo normativo, anche la delega all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la regolamentazione di borse di studio di lavoro, di viaggi e premi per quei figli capaci di compiere azioni particolarmente meritorie all'interno del contesto familiare. Per il consigliere Andrea Volpe del Partito Socialista Italiano, primo firmatario della proposta di legge, per la Campania è un risultato storico. È un modo per stimolare il dibattito sulla denatalità, sul diritto di essere figlio. Ci sono tanti figli che purtroppo non vivono una condizione ideale, senza famiglia, ragazzi che soffrono. Questo è un modo per cercare di dare una mano a questi ragazzi, quindi non solo celebrazioni ma anche accompagnare fisicamente con delle borse di studio, borse lavoro, dei viaggi di istruzione e noi ci auguriamo che tutte le istituzioni il 15 maggio potranno celebrare questa giornata e provare a dare un segnale ad essere figlio.